Prima del video ragazzi vi ricordo di utilizzare il codice creatore dei pro Se siete dei pro, decodrattino abusivo nello shop, taggatemi su Instagram E il link in descrizione è semplicissimo, farò provino in privato A chi lo farà? Quindi mi raccomando, decodrattino abusivo e taggatemi su Instagram Ragazzi, avete presente quell'uomo tutto deformato, tutto strano in faccia? Sì, ok, voleva trollarmi, voleva fare un fake provino e vedere la mia reazione In poche parole, voleva entrare in anonimo in modo da farsi fare i complimenti da me Che durante i provini li faccio sempre E farmi capire alla fine che player avevo perso E invece Aresplay è arrivato, è venuto qui in lobby Tra l'altro so anche lui registrando, mi ha detto di registrare, vero? Ok? Vero, vero, vero Mi ha spiegato nel suo video cosa è successo In poche parole, Jaren voleva far pace con lui dopo tutto quello che ha fatto Cioè, è pazzo, cioè proprio il cervello è diffuso, tutto il dissing Adesso vuole far pace In poche parole, voleva fare un provino troll nei miei confronti Facendo finta di essere con un altro account, così mi ha detto Sì, sì, è già con un altro account Anzi, io lo devo invitare adesso Però Ares, cosa fa? Il contro-troll lo sta contro-trollando Quindi io so che è Jaren e non è un'altra persona E fra, lo disserò, lo prenderò in giro Vedremo la sua reazione Cioè, lui non se l'aspetta, spero, cioè, penso No, 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 lui è convinto Anzi, quando io ho detto va bene, lui mi fa perfetto, ok, allora Yeah, invita, 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 invita Andiamo subito in game Ok ragazzi, ci siamo Stiamo osservando questo player che ci ha portato Ares Quanto tempo era Ares che non mi portavo un player? Che non ci portavo un player? Come si chiama? Salvo, no? Quanti anni ha? Ma parla? Salvo Salvo No, mi sa che ha dei problemi con il microfono Ha problemi con il microfono? Con quante kill hai? Quante kill hai? Ma ci sente? Sì, ci sente Due kill già? Già, due kill Ammazza che brava Forse, non lo so Però non l'ho vista Quindi non contano Ares Lo sai perché non le ho viste Quindi non contano Mi dispiace Comunque dai movimenti Non è che mi sembra così tanto forte Cioè, Ares Tu sei sicuro? Che sia forte? Ma sì, sì Beh, forte Sì, bravo Ah, che stiamo facendo a fare il video? No, 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 no Ma è bravo a delle tecniche Ah, delle tecniche è molto Vediamo, vediamo Già che usa le granate Non è che mi... Lei si blocca No, no, no No, non è Cioè Ma missa! No Ma è un bot Cioè, un'ora e mezza per sfidare No, adesso Ma che mi ha portato? Però va bene, è l'inizio È solo l'inizio Secondo me È l'inizio Non è neanche da Academy, eh Non è neanche da Academy Adirittura Ma è A parte che sta giocando contro il bot L'ha missato Si è incastrato Magari Diciamo che ha un po' di ansia Ha un po' di ansia Può essere Ah, un po' di ansia L'ha detto anche lui È la prima volta che gioca con me Cioè, ci sta Ci sta Però si è bloccato, Alias Hai visto? Nella sua stessa struttura Due kill non li ho viste Ci ha messo Ah, è bell'edit Si è bloccato nella porta, però Mi sta incastrando Cioè, l'hai visto? No, vabbè No, non è che va bene Non va bene per niente Cioè, nel senso Alias Vi sto facendo un video Ma neanche lo carico Cioè, in realtà Non voglio demoralizzarlo Non voglio demoralizzarlo Non voglio Quindi tre kill, no? Però conta una Non abbiamo visto soltanto una Come dico sempre Non è importante Quante kill uno ha Ma come le fa Ok? Giusto Per adesso l'ha fatta una Eppure bruttina Però Però ragazzi Ci sta Ci sta E la cosa interessante Alias Tu lo conosci bene? Sì, sì Quindi le domande posso farle a te Sì, tranquillo Allora, da che season gioca? Dalla Seconda Dalla seconda Ah, è il cavaliere Sì, vero Allo scuso del cavaliere Dalla seconda Quindi questo lo sappiamo Seconda cosa Quanti anni ha? Quanti anni ha? È probabile È probabile Quanti anni ha? Quanti anni ha? Penso che ne abbia 21 21 21 Pensavo molto più piccolo Però è un nome un po' brutto Cioè 24k Che è un team? Cioè sta già in un team però No, no, no Non è un team Penso 24k Ma lo sai che questa skin L'ho usato una persona Che conosco? Tipo 24 karati Capito? Ah, sì, sì L'ho intuito È un po' bimbo, no? Un po' bimbo, minchia No, no Sì, va bene Ma tu sai che questa skin qua Che sta utilizzando il meccanico Non ha visto il lama Però vabbè Questo ci sta Non ha visto neanche il lama A destra Ok Destra Destra Va, c'è un lama alla cross Quanto una casa Io l'avevo visto Cioè Non volevo dirglielo Per non aiutarlo Perché provino è suo Ma lui cosa? Lui punta a entrare in cosa Nella community Anche in academy No, no Lui vuole puntare al team Al team Diretto Comunque stavo dicendo Alias prima del lama Questa skin La utilizza sempre una persona Che conosco Che Mo lo dico perché non c'è È sicuro non guarda i miei video Però Mi fa schifo C'è una persona veramente Vorrenda No C'è A parte che è brutto Cioè Ma già Cernobil È vero Cernobil Vedi la uso sempre lui È vero È vero Mi fa questo Mi fa questo ricordo Salvo push up a qualcuno Comunque tranquillo Per i miei commenti Lo faccio apposta Per mettere un po' più di ansia Perché voglio tirare fuori Il mostro che è in te Capisci? Ce n'è uno là Oh Oh Bella hit però Bella hit Cioè Veramente Però con l'edit Si è perso tutto Cioè No Cioè Sta cercando Ma poi Chi è Chi becca No Alias No veramente No ma non ha senso Non ha senso Sono bot Vabbè Vabbè Dai le skill Ma che si è bloccato Guarda Ho avuto pure il pompa oro Ma non lo prenderà mai No Non penso Dai non lo prende Vediamo se lo prende Vediamo come gioca Oh Ci ho preso un hit C'è qualcuno che spamma Probabilmente No Mette prima il pavimento Ma che fa Ma chi No No C'è anche uno con una macchina Ma però è veloce Dai Abbastanza veloce Nell'editare Ho visto molto di meglio Vabbè Ma sta giocando Alias Cioè veramente Cioè sta mostrando Vabbè non è male Ma l'hanno investito No Pirata Te kill la Due kill Due kill Due kill Due kill Quelle che abbiamo visto Poi se le ha fatto fregare Cioè da un pilota della strada Ce ne vuole Ha provato a fare Tutte le skill Però Dai dai Tira fuori il mostro Che è in te Dai che ti voglio In community A te Ti voglio in community Se va bene Forse Cioè in realtà Cioè in realtà Uno così Fra Lo sa Cioè Adesso noi siamo un team serio Adesso che è uscito pure Jaren Tu lo sai Che È più serio Siamo tutti contenti Cioè non lo dire a Jaren Poverino No no Perché poi ci rimane male Però Cioè Siamo tutti contenti Addirittura a scuola Cominciò a fare le live Cioè capisci A scuola cominciò a fare le live Per la felicità Sta facendo i provini Sta facendo i tornei interni E tutti contenti Ma pure i miei amici No i miei amici youtubers Finalmente se n'è andato quello Finalmente Lo so Lo so Però Oh non dirla a Jaren Tanto lui non guarda i miei video Ok ti dico la verità Uno come quello Però Ragazzi io mi dissocio Lo dico ma mi dissocio E non dite niente a Jaren Guardo faccio madonna Ma come da dove è scappato No no dai poverino Cioè No 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 Cioè Cioè Sfavamo scappato Cioè capisci Poi è diventato di Chernobyl Si sente un pro Si sente un pro Ha fatto il team di Chernobyl Ha fatto il team di Chernobyl Ti rendi conto Tutti i mostri Poi li sparano Ancora nel bo Vabbè Sì sì Vabbè dai Scusa Albo scusa Cioè non so se tu Se fan di Jaren Ma tranquillo Vai 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 Non so 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 Ma che livello è questo account No ma livello 100 Perché sta incontrando gente Cioè Boh Non lo so Ok ma Ma non ha senso Sta mostrando le skill No Ma contro uno del genere E poi partelo senza neanche Puoi non anche usare i materiali Ci ha preso pure lì Ma Ci ha preso l'elite Puoi non anche usare i materiali Cioè infatti Mi ha fatto uno Lo scildone Lo scildone Vabbè sono tre le kill no Si sono tre le kill attualmente Mi dispiace Non so se è la pressione È l'ansia Sarà la pressione Salve l'ansia Eh Solo mi dispiace Però Ma vabbè Non è ancora detto Ma non è che non è ancora detto Cioè Ok Alle basi no Alle basi Però Capisci Non è che Poi cioè Stai incontrando gente Che Non ha Cioè Veramente Non puoi contarvi come fai Staglias Ma va a zero Pro Se riesce a fare vittoria reale Non ci vuole niente Ok Sta fare il doppio edit Un retake Non è Ma gioca da pad No Perché uno con i movimenti così Lineari Non è da pad Strano Allora ha la sensi bassa Alla sensi bassa Sì sì molto Alla sensi bassa Ma 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 dove spai Ma chi è No ragazzi No ragazzi Salvo mi dispiace Non contro neanche le kill Non le contro Ma non contro Ma È morto Scusami Salvo No cioè Io non me l'aspettavo Ho riso perché non me l'aspettavo Cioè È morto così Da in botte Era da ridere Salvo Scusami Era da ridere Cioè Un colpo in testa così Però voglio vederti in creative Voglio vederti in creative No seriamente Voglio vederti in creative Perché Mi dispiace Sei morto un po' a sfortuna Non te l'aspettavi neanche te Secondo me Ok ragazzi Ho messo il ptt Alias mi senti È buggata la chat Alias mi senti Alias Però lo premo Alias Ehi Ok mi senti Sì Mi senti ora Comunque Comunque Vedete ragazzi Non stiamo dicendo Cavolate È la chat Che è buggata Comunque adesso Possiamo prenderlo in giro Cioè lui sta registrando Non vedo l'ora di vedere il suo video Voglio vedere la sua reazione Secondo me Non se Vi giuro che non se l'aspetta Mai una cosa del genere È incredibile L'abbiamo preso in giro Tutto il tempo Abbiamo detto che è scarso Abbiamo parlato mai di Jaren Voglio vedere la sua faccia Vi giuro ragazzi Non vedo l'ora Allora ragazzi Alias non gioca da tipo Oltre 4 mesi Quindi è chiaro Che Jaren Lo batte In maniera incredibile Però C'è sempre Però è un video troll È un contro troll E quindi lo prenderò in giro 3 2 1 Let's go Perfetto Perfetto Vediamo Alias Però mette prima il pavimento Questa cosa mi triggera Mi triggera Te non giochi neanche da mesi No Però non è male Però Va bene Cioè Quello doveva essere un 200 Però Quello doveva Da quella distanza Così per avvicinare Doveva essere un 200 Ti ha preso proprio Male Ma che Ma che sto a dire Cioè è già tanto Che ha colto 60 In realtà Cioè ma Ma lui gioca tanto Cioè sì Gioca tanto Da quello che Stavi dicendo prima Vero? Alias 110 Eh ma perché Ma perché Giocata No non conta questa Non conta perché Tu stavi premendo il ptt Vero? Per la domanda Ti ti hai fermato Adesso lo tolgo Aspetta Ragazzi lo tolgiamo tantissimo 2 1 Let's go Vai salvo Vai salvo Stiamo 0 a 0 ancora 0 a 0 Fammi vedere qualcosa Perché vabbè Tu sai che Alias Non gioca da tanto No bella hit Devo dire Anche se te Alias Lo stai facendo apposta Lo so Sì Sì Vabbè chiaramente Lo stai facendo apposta Ragazzi ma non è per Alias in realtà Non gioca veramente Da tanto tempo Però rimane sempre sotto Cioè capisci Tu non giochi mai Ma rimane sempre sotto Cioè non mi sembra Molta lì E cade Non l'ha buildato No vabbè Alias Non mi sembra Proprio il massimo Non mi sembra Proprio il massimo No veramente ragazzi Giarran sta giocando così male C'è qualcosa che non No probabilmente Non ha le sue sense No lo dico Cioè lo so che Trolliamo No no sta succedendo qualcosa Di accadere o sbaglio Ma ha qualche problema O sbaglio salvo Non lo so Secondo me di lag Non lo so No in realtà Non di lag Vabbè Io penso che abbia veramente Il problema di lag Ragazzi quando alzo la mano Quando alzo la mano Vuole scendere tutto Ok ok va bene Aspetta 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 Quando alzo la mano ragazzi Naturalmente ho il ptt disattivato Quindi non mi sentono Ma non è problema di lag Secondo me raga Secondo me proprio scarso Magari può andare nel team di Jaren Se vuole Secondo me può andare Nel team di Jaren ci sta Eh no non riesce a buildare No nel team di Jaren c'è vero? Vero Alias Cioè va bene Penso che sia uno dei più forti Un pro Oh Oh Ragazzi io vi giuro Che sta lagando Sicuramente starà facendo il video Attualmente E starà male dicendo La tua connessione Sui tasti Non lo so cosa Sia succedendo Ma sono sicuro Però non voglio più vederlo Non voglio più vederlo Dai Vai dirgli di andare da Jaren Salvo mi dispiace Vai da Jaren Mi dispiace No no finisce qua Finisce qua? Sì finisce qua Non mi sento No cavolo Mentre il caricamento Finisce qua Non stiamo Jaren Faccio gli effetti sonori Perché poi non li trovo Nell'editing Mi impiccio Non li faccio automaticamente Va bene Salvo mi dispiace Sono stato un po' cattivo Però è una giornata Un po' tosta oggi C'è una giornata Un po' storta Strana C'è presente La faccia di Jaren Così Ehm Alias Va bene Grazie La prossima volta Però assicurati Che sia più forte Ok ragazzi Sono abbastanza soddisfatto Non so minimamente Nella sua reazione Lo scoprirò domani Ma soprattutto Spero di essere riuscito A trollarlo Perché se lo merita E voglio 10.000 like Per questo video Che secondo me È evocale